Ben 14 tratti cronometrati, spettacolari avvincenti, ricavati come consuetudine dentro il comprensorio del ciocco, uno dei templi della specialità non solo in ambito nazionale. Nicola Caldani, in coppia con Roberto Mumetti, cui è andato il trofeo Perissinot, ha concesso il trist di successi dopo quelli del 2000 e del 2009. L'esperto pilota versiliese ha condotto una gara di alto profilo, passando al comando con un attacco deciso nella terza prova speciale. Le prime due PS della serata precedente, infatti, messe in campo per ricordare proprio la figura di Perissinot, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, avevano elevato al leader il vincitore del 2013, il massese Gabriele Ciavarella, in coppia con Perna, su un'altra Fiesta R5. Poi Caldani, di primo mattino, è andato al vertice, mentre Ciava ha commesso un errore sulla quarta prova e sulla successiva quinta è uscito di strada, lasciando via libera al vincitore. Alle spalle di Caldani, in seconda posizione, ha chiuso il fiorentino Paolo Ciuffi, tornato al ciocco con una Mitsubishi Lancer Evolution. Il pilota di Impruneta inseguiva il poker di successi, affiancato da Alessandro Bugelli, ma subito toccato con mano la potenzialità della Fiesta R5, prima di Ciava e poi di Caldani. Concreta ed esente da errori la gara di Ciuffi, che ha vinto anche il gruppo N, riservato alle vetture derivate dalla serie, lamentando una difficoltà al cambio nel finale di gara. Terzo posto assoluto per Rudy Michelini, con la sua Citroen DS3 R5, assecondato da Moriconi. Per lui una gara estremamente regolare, sempre nelle alte sfere della classifica, premiata col gradino più basso del podio.